salve a tutti ragazze e ragazzi benvenuti io sono Zahira e sui tarocchi ho per voi un nuovo mini interattivo che è il seguente se è stata solo un'avventura o qualcosa di più per lui quindi andiamo a vedere con questi meravigliosi tarocchi degli illuminati se siete state per lui solo un'avventura o qualcosa di più ovviamente per chi mi segue mettetemi un like e seguitemi nel mio canale qui abbiamo un 9 di spade un 10 di spade una principessa di pentacoli la carta della forza il matto il 3 di coppe il 3 di spade il re di spade il 7 di bastoni e il 5 di spade a fondo mazzo abbiamo il re di pentacoli allora vediamo se siete stati appunto solo un'avventura o se qualcosa in più ma diciamo che qui sicuramente questa persona vi ha fatto intanto vi dico subito quello che mi viene proprio la prima cosa che mi viene da dirvi è che questa persona vi ha veramente colpito alle spalle vi ha fatto del male vi ha fatto soffrire e vi ha dato poco piccolissimi doni pur essendo con voi c'aveva un legame un'alchimia un senso di magnetismo molto forte però con la carta del vedete del matto il matto è colui che si muove solo per avventure che insomma cerca soltanto cose superficiali perché non è in grado di avere un rapporto serio e con il 3 di coppe che mi parla di consolazione e comunque anche di rapporti diciamo a treno comunque di sesso di incontri sessuali e con il 3 di spade mi viene da dirvi che per lui siete state purtroppo solo un'avventura e infatti questo suo modo di comportarsi a differenza da quello che probabilmente vi ha fatto credere vi ha fatto credere di essere un re di denari una persona che poteva darvi una stabilità e invece si è comportato come un re di spade quindi una persona fredda autorevole che ha preso da voi ciò che voleva e dopodiché ha alzato le difese e vi ha come dire vi ha mandato il conto a casa no delle sofferenze dell'infelicità e della grettezza con cui si è comportato nei vostri riguardo il 5 di spade vi voglio ricordare che è una carta negativa per la consultante o il consultante quindi questa persona mi viene da dirvi che vi ha illuso vi ha fatto credere magari qualcosa in più ma c'era del magnetismo c'era un'attrazione forte perché questo me lo dice la carta della forza però lui pur essendo in qualche modo ancora legato comunque a voi perché quando viene fuori la carta della forza c'è un qualcosa di magico comunque come energia e pur avendo questa diciamo questo magnetismo questa alchimia nei vostri riguardi questa persona sia per energia sia per carattere non ha avuto il coraggio di portare avanti magari vedere poteva anche come dire esplodere un sentimento ha pensato soltanto a se stesso abbiamo due re assolutamente poco empatici molto freddi razionali iper logici e quindi alzato le difese e via così come dire consegnato questo conto che voi avete dovuto pagare con le vostre sofferenze con i vostri dispiaceri io qua vedo una persona veramente che sta male quindi ragazze ragazzi non ne vale la pena per questa persona per per lui siete stata un'avventura anche se non nascondo che questa persona con voi stava bene nel momento in cui ci stava e aveva anche una forte attrazione molto forte nei vostri riguardi ma sinceramente se vi devo dire che questa persona provava un sentimento per voi assolutamente no allora questo è tutto ragazze io vi saluto vi mando un bacione mi raccomando mettetemi un like iscriviti iscrivetevi al canale youtube oppure seguitemi su tik tok un bacione e quindi